16 anni di carcere, questa la decisione del GUP del Tribunale di Pescara Elio Bongrazio per Roberto Mucciante, il 53enne arrestato il 25 di aprile 2018, reoconfesso dell'omicidio con 38 coltellate del vicino di casa Salvatore Russo, 58 anni. Il PM Luca Sciarretta al termine della sua requisitoria aveva chiesto 20 anni di reclusione contestando all'imputato giudicato secondo il rito abbreviato, le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà, mentre le parti civili difese dai legali Andrea Cocchini e Alessandro Dioguardi avevano chiesto al giudice di applicare il massimo della pena. Nel determinare la condanna a 16 anni, oltre al rito scelto che prevede lo sconto di un terzo della pena, è stata decisiva la perizia psichiatrica che ha riconosciuto l'uomo parzialmente incapace di intendere e volere. Il GUP inoltre ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Gianluigi Amoroso e Clara Di Sippio, che ha fatto sì che venisse esclusa l'aggravante della crudeltà. Il delitto si consumò nel garage di un condomino di Pescara, tra via del circuito e via Pian delle Mele, dove vivevano sia Mucciante che Russo, rispettivamente al primo o al secondo piano. Mucciante uccise il vicino perché disturbato a suo dire dai rumori provenienti dall'appartamento dell'uomo. I familiari della vittima, presenti al momento della lettura della sentenza, hanno reagito con urla, di rabbia e lacrime. Il giudice ha anche condannato l'imputato al pagamento a titolo risarcitorio di una provvisionale di 75 mila euro a favore della moglie della vittima, di 45 mila euro a favore dei figli e di 15 mila euro a favore della sorella. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro il 30 di novembre.